Nuovo Bancomat Intesa San Paolo. Se sei un correntista di Intesa San Paolo, vuoi sostituire il tuo vecchio Bancomat o quello che hai adesso si è danneggiato, sappi che ho scritto una guida che ti spiega quali sono le caratteristiche di questi nuovi Bancomat Intesa, come si richiedono online, quali sono i costi e tanto tanto altro. Per trovare la guida vai su Google e digita il mio nome e cognome. Io mi chiamo Ciro di nome e muto di cognome. Una volta all'interno del mio sito, con il pulsante di ricerca, se digiti la frase Bancomat Intesa San Paolo, ti compare la guida di riferimento che ti spiega tutto nel dettaglio. Ti saluto e ti aspetto in un prossimo video. Ciao!